A Gliardi una bella giornata, un riconoscimento importante e tanti giovani soprattutto. Sicuramente mi ha fatto molto piacere, motivo di orgoglio, aver ricevuto un premio così prestigioso, oltretutto nel decennale della manifestazione. È stato un incontro molto bello, perché ci sono stati toccati dei temi molto delicati, con la partecipazione anche di personalità eccellenti nel passato calcistico. Poi ci sono anche molti studenti ed è sempre bello poter trasmettere qualcosa di importante alle generazioni future. Una figura come Rivera, al di là dell'importanza storica come calciatore, rappresenta oggi un punto di partenza importante per il miglioramento del calcio, alla luce di una capacità anche di pensiero capace di individuare le nuove aree su cui interagire. Sicuramente un campione come Rivera è tanta roba. Con la sua esperienza sono convinto che il calcio si possa riprendere. Ci sono altri campioni che potranno dire la loro e spero vengano coinvolti il più possibile, perché è solo chi, e sono convinto, chi ha giocato a calcio può dare veramente tanto a questo sport che ha bisogno veramente tanto di figure come i campioni del passato. I problemi che attragnano la categoria sono molti, i fallimenti delle squadre, difficoltà economiche e quant'altro. Si aggiunge anche quello del contratto collettivo. In questo senso una divaricazione della categoria stava in un significato, in senso rapportativo, può in realtà indebolirla nella fase di ultimazione di una difficilissima trattativa. Adesso le ragioni, il perché si è voluta creare un'altra associazione da parte di qualcun altro, non lo so. So solo che sicuramente è una situazione un po' delicata e bisognerà venirne fuori il prima possibile, perché è una situazione che lascia un po' così. Bisogna arrivare il prima possibile alla soluzione, perché è meglio per tutti, perché purtroppo lo sciopero è sempre visto non di buon occhio da chi non ne capisce, anche se comunque i punti toccati non riguardano esclusivamente motivi economici. Sono altri punti su cui ragionare bene. Perciò è sempre stato così, ognuno farà valere le proprie ragioni e poi spero si arrivi a una conclusione nel breve tempo.